Siamo con Roberto Sanfilippo, personaggio conosciuto nella vita cittadina lechese, non solo quella, ma ormai da diversi anni è un giro mondo, è uno che visita gli angoli più lontani, sperduti, dimenticati o pochi conosciuti del mondo. L'ultima tappa è stato il Madagascar, al quale ha dedicato una pubblicazione di ricordo, di visita, di incontri, di sensazioni e di commenti. Perché il Madagascar? Sì, Aloisio, tu hai riassunto molto bene quello che da vent'anni ormai faccio, il viaggio per il mondo, ma in realtà da circa venti anche mi sono quasi fermato in Madagascar, dove passo dai quattro ai sei mesi all'anno. È talmente grande stato l'amore per questo paese molto particolare, di cui magari poi parliamo, che ho con Alberto Casiraghi, il pulcino elefante, ho voluto dedicare, grazie anche a lui che mi ha dato spazio, un piccolo librino, un omaggio al Madagascar, pubblicato in italiano e in lingua francese, che è la seconda lingua di questa grande isola, in cui esprimo la mia ammirazione per questo paese drammatico e meraviglioso. Qual è la presenza italiana in Madagascar? È una presenza che è abbastanza diffusa, ma soltanto nell'isola a Norda, che è l'isola di Nossibe, molto conosciuta, Nossibe vuol dire appunto grande isola in lingua malgascia, dove sono molti gli italiani che negli ultimi 40 anni, 50 anni hanno costruito alberghi, hanno una vera e propria comunità, esiste anche un console onorario. In realtà la presenza più forte in Madagascar è ancora quella francese, che nasce dal periodo coloniale. C'è un forte movimento turistico italiano in Madagascar? A Nossibe sì, dove in pratica sono credo uno, forse addirittura due charter che partono da Malpensa alla settimana, ma per Nossibe, dove c'è un'organizzazione, un centro turistico importante. Ma al di là di questa isola, che è come dire isola d'Elba per l'Italia, insomma, al di là di questo agglomerato di italiani a Nossibe, la presenza di turisti in Madagascar è assai limitata. Poche decine di migliaia, forse meno. Adesso, fra una settimana, mi sembra, torni in Madagascar. Sì, il 15 tornerò in Madagascar, dove resterò due mesi, dove cerco di occuparmi da qualche anno di una famiglia particolarmente provata da disgrazie diverse. Do una mano a una bambina per la scuola, pago una scuola, la scuola francese, cosa che fanno tutti gli stranieri che stanno in Madagascar e che conoscono in Madagascar. Andare in Madagascar da qualche tempo e non aiutare qualcuno è impossibile. È un paese davvero preoccupante, un paese tra i più poveri del mondo. Quindi non faccio niente di eccezionale, ho deciso di farlo a livello personale. Bastano quattro soldi per dare una mano sufficiente alla scolarizzazione. Quindi ho scelto di farlo personalmente senza organizzazioni internazionali come St. The Children o altre. Perché sono lì spesso e sono in grado di controllare, di vedere che tutto vada a buon fine. Quindi sono contento di questo. Ecco San Filippo, io non voglio cadere nell'errore che ha fatto qualche mese fa un telecronista delle varie emittenti che ha definito piccola isola formosa che è grande una volta e mezza la Sardegna. E allora per non definire una piccola isola Madagascar diamo qualche dato su questa isola africana. Bravo e saggio Aloisio. Questa isola che è più oceanica, è oceano indiano più che africana, è la quarta isola più grande del mondo. È quasi due volte l'Italia. Quindi non è affatto piccola, è addirittura chiamato piccolo continente. Ci sono 12 etnie differenti, è più appunto di origine indonesiana che africana. Quattro volte l'Italia? No, 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 quasi due volte, quasi due volte. Due volte l'Italia con una popolazione? Di ormai 20 milioni di abitanti che si è molto sviluppato in questi anni perché nel 59 quando si liberò dal colonialismo vi erano 3-4 milioni di abitanti. Come il ritmo francese? Il ritmo francese. Parliamo del libro, nel libro che hai fatto? Del librino, cioè in pratica è un omaggio poetico in cui appunto dico che questo è un paese della dismisura, la dismisura sono i baobab, vi sono delle specie di baobab che esistono solo in questa isola, la dismisura sono le balene che circunnavigano l'isola più volte all'anno e sono ovviamente gli animali più smisurati che conosciamo. sono i lemuri che sono particolarmente incredibili, addirittura in italiano lemure vuole anche dire fantasma, se lo cerchiamo sul vocabolario, c'è questa cultura dell'aldilà molto importante, molto particolare, anche questa molto indonesiana, vi è un sincretismo che ha funzionato abbastanza bene, pur nella logica del sincretismo in generale, per cui la gran parte oggi dei malgasci sono cattolici o protestanti, ma in realtà rimangono animisti. Durante la permanenza nel Madagascar come sono le tue giornate? Ma io sto un po' nella capitale, dove ormai ho tanti amici, ex insegnanti soprattutto del liceo francesi, anziani come me, poi me ne vado a Morondava, che è questa cittadina sul mare, dove ho preso questo rapporto molto positivo con una famiglia, di fatto con due famiglie, con una bambina soprattutto, che adesso ha ritrovato a pieno il rapporto con la madre, che per qualche anno invece è stata con la zia, insomma ho cercato, e quindi tra amici, passeggiate lungo il mare, a volte vado a scuola a prendere la bambina con la mamma, e contenta di poi, insomma le cose che potrei fare come se fossi nonno, le potrei fare a Lecco, ho preferito farle in Madagascar. Ecco un'ultima domanda, quali ricordi di Lecco ti accompagnano, ti tornano nella memoria durante i soggiorni in Madagascar? Lecco mi torna alla memoria soprattutto per quegli anni belli che abbiamo vissuto un po' insieme al giornale di Lecco, con Giacomo De Santis, i ricordi che mi hanno, sono stati propedeutici per il mio impegno politico successivo, ma sono stati sicuramente più belli quando insieme facevamo le pagine al giornale di Lecco e sono stati più formativi da un certo punto di vista.